Ho camminato un turco negli anni 70 Sì, 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 sì. Ho camminato un turco appunto, ho camminato fino a sera Rappunto un buonino e specifiche di l'ingresso e di passare in corso nella nostra primavera E a sé che è una fadiga che è un numero in decadria e che è un razzurato in corso che non si può vivere in corso che è un razzurato in corso che è una fadiga e che è un razzurato in corso che è un razzurato in corso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.